Il 22 novembre alle 21 verrà inaugurata la terza stagione teatrale del Teatro dei 99, con la commedia più copiata e imitata, rappresentata da oltre 25 anni che a grande richiesta, viene proposta però in una nuova edizione, Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Un film del 95, una versione televisiva per il palcoscenico di Rai 2 nel 97, per palco e retropalco nel 2009, tradotta in inglese, francese, spagnolo, greco e polacco, con 137 risate e 20 applausi a scena aperta, in 115 minuti di spettacolo. La regia è di Rosario Galli, con Federico Perrotta, Andrea Carli, Salvatore Mincione, Ferdinando Smaldone e Valentina Olla, nel ruolo di Ivonna. La regia è quella originale di Rosario Galli, che è uno dei due autori, perché gli autori sono Rosario Galli e Alessandro Capone. Noi abbiamo l'onore di portare in giro il 25esimo anniversario di questa commedia assolutamente divertente, il titolo serve già, è già commedia, Uomini sull'orro di una crisi di nervi. Di solito si dice delle donne, ma in questo caso ormai i sessi si sono invertiti e quindi raccontiamo la storia di quattro amici che ogni lunedì da 15 anni si ritrovano a casa del nonno di uno dei quattro a giocare a carte. Succede che per le telefonate delle proprie mogli, delle ex mogli, insomma, per il nervosismo non si gioca mai. Cosa succede? Ma facciamo qualcosa di diverso. Chiamiamo una signorina che può essere la nostra leggerezza, invece la signorina sarà la botta finale, quindi la crisi di nervi arriverà a compimento. Ma la stagione del teatro del 99 ancora una volta è molto ricca e proporrà uno spazio anche per i bambini. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Mamma Mia Bella, ritorna Federico Perrotta e la sua squadra con Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Quindi una bellissima partenza, tutto il cartellone è improntato sulla leggerezza, che non vuol dire mancanza di contenuti, ma un diverso approccio per veicolare comunque messaggi importanti.